Il taglio è fantastico finché Per fortuna c'è ribellato Medical Group Parliamo di atletica, siamo in collegamento con Fabio Ceccato, corresponsabile tecnico del team Treviso Innanzitutto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito Buonasera a lei, buonasera a tutti voi ascoltatori e grazie a voi dell'invito Piacere nostro naturalmente Allora parliamo innanzitutto del grande successo della formazione femminile in quel di Vittorio Veneto Nei campionati italiani assoluti di società Ecco come si sono comportate le ragazze Qual è stata in particolar modo la carta vincente che ha permesso loro di avere, di ottenere per meglio dire questo successo? Allora per quanto riguarda la squadra credo che una delle carte vincente sia proprio quella di aver sentito fin da subito l'effetto gruppo, l'effetto squadra Fin dalla prima gara le ragazze si sono prodigate a unire l'aspetto aggregativo colorandosi il viso con dei colori sociali Facendo uno striscione con uno slogan anche un po' azzardato E questo ha fatto sì che si amalgamasse il gruppo Poi il fatto più importante credo che sia intrisseco un po' nel nostro statuto societario Ovvero dove più impianti sportivi, dove più realtà sportive si sono messe insieme Per mettere insieme più professionalità, più competenze Le ragazze si possono allenare con vari specialisti Ognuno per il proprio allenato di riferimento Ma possono avere anche come appoggio altri specialisti Fino alla fisioterapia Quindi ragazzi che possono essere seguiti per fare atletica a livello amatoriale Per fare atletica a livello di movimento e di gruppo Ma soprattutto anche dare la possibilità di un'atletica di alto livello Con allenatori preparati e formati per tale scopo Ecco, abbiamo parlato appunto di individualità diverse Ci sono anche specialità diverse Perché parliamo di salto in alto, giavellotto, ostacoli Insomma, non vorrei dimenticare nulla Ma era giusto per fare qualche esempio Ecco, come si può amalgamare un gruppo Nonostante tante individualità diverse Tante specialità differenti Questa è una bellissima domanda Credo che la chiave vincente sia il dialogo Ognuno con le proprie competenze Porta la formazione del proprio atleta Ma di conseguenza con l'intelligenza Sa anche dialogare con altri professionisti Per chiedere consigli O per vedere la soluzione migliore Fino di superare certi ostacoli O certe inconvenienze che possano subentrare Abbiamo degli allenatori molto formati Perché all'interno del nostro gruppo Ci sono appunto allenatori che nel tempo Hanno tra virgolette sfornato atleti di alto E di altissimo livello E questo fa sì che la squadra possa crescere Fin dalle categorie giovanili A risultati importanti come nelle categorie assolute Ecco, oltre ad aver parlato delle ragazze Che hanno sicuramente ottenuto un risultato Molto, molto importante Parlerai anche dei ragazzi Non hanno ottenuto un risultato Non hanno avuto, diciamo così, tanto successo Però è doveroso parlarne Perché comunque si sono impegnati E comunque anche se sono arrivati i decimi È giusto sottolineare anche le loro prestazioni Nel loro caso che cosa non è andato Diciamo per potersi piazzare Qualche posizione più in alto Allora, per quanto riguarda la squadra maschile Ci sono all'interno della squadra Delle individualità e delle capacità Di notevole spessore Si è partiti dalla formazione stessa Della squadra, leggermente cautelativa In quanto questo fine settimana Ci sono anche dei campionati italiani di categoria Ad Agropoli Che ci ha fatto sì Posizionare Di sfornare una squadra Che non fosse troppo aggressiva E per appesantire troppo Certe individualità importanti Che magari possono far bene A questi campionati italiani Se poi ci mettiamo dentro Anche un po' la sfortuna Perché sappiamo che Nei campionati di società Ci se la gioca sempre Cito per esempio Tre salti nulli Nel salto in lasta Dove il nostro Andrea era piazzato molto bene Aveva la prima misura di accredito O alcune mancanze Per concomitanze Matrimoni Per esempio Il nostro martellista Altre risultati Che per sfortuna Non hanno potuto Coprire La disciplina Nel miglior modo Poi c'è una serie Di concomitanze Hanno portato A questo risultato Non del tutto Diciamo soddisfacente Ma assolutamente Aggregativo E tra l'altro Segnalo anche Con una forte motivazione Data dal nostro nuovo capitano Che saluto Davide Coluso Che sta riuscendo E ha lo scopo Anche di portare L'infa L'infa vitale A questo gruppo Che è fortissimo Quindi diciamo Che anche se Il risultato Non è stato Ecco Dei migliori Comunque è stata Un'esperienza Che può aiutare Molto Nella crescita E anche Da servire E può servire Anche naturalmente Da insegnamento Per le gare future Assolutamente Sì Anzi Sottolineo appunto Questa capacità Dei ragazzi Perché abbiamo chiesto Anche a delle A dei ragazzi Un po' più giovani Di poter Gareggiare Per sostenere La squadra Proprio per le scelte Anche Societarie Fatte in precedenza Cioè Quella di Preservare Alcuni atleti In vista Di questo Ultimo fine settimana In cui dovranno Fronteggiare Ai campionati italiani Atleti di notevole spessore Per poter Riuscire a esprimere Al massimo Le proprie potenzialità Chiarissimo E dunque Per averci Parlato Dei recenti impegni Del team Previso Ringraziamo di cuore Il corresponsabile Tecnico Fabio Ceccato Per essere stato Con noi Io ringrazio voi E vi ringrazio Per l'opportunità Saluto tutti E buona atletica A tutti Massoterapia Il potere delle mani Un benessere profondo Prenotala da Rebellato Medical Group